Un episodio non abbastanza noto, le scrupolose indagini di un bravo poliziotto e il sospetto dopo oltre 100 anni che dietro un banale incidente ci fosse qualcosa di molto più grave. Siamo nell'estate del 1922, al vittoriale, Gabriele D'Annunzio in compagnia della sua amante Luisa Baccara e di sua sorella Yo-Yo, per cause misteriose, il Vate, all'epoca uno dei personaggi più influenti della politica italiana, cade giù da una finestra, in apparenza al culmine di una lite per motivi di gelosia, ma una lettura più critica, certamente qualcosa di più, visto che di lì a pochi giorni D'Annunzio si sarebbe dovuto incontrare con Mussolini, l'allora ministro Nitti, per discutere un progetto di pacificazione nazionale alla luce di un fermento sempre più crescente che sarebbe scaturito nella tristemente nota marcia su Roma, primo passo verso il regime fascista. Le indagini, delicatissime, furono affidate a un intraprendente commissario di polizia romano Giuseppe D'Osi, un passato giovanile d'attore ritenuto padre del fregolismo detektivistico sviluppatosi negli anni nella moderna tecnica del Mindhunter, ovvero la capacità di immedesimarsi nella mente dei criminali per decifrarne i comportamenti. Al raptus di Giorgia D'Osi non credette mai e cercò di comprovare la matrice politica di quel terribile incidente. Del resto D'Annunzio era in forte antitesi con Mussolini, mai avrebbe approvato la deriva fascista e per questa ragione andava evidentemente neutralizzato. Una storia affascinante ricostruita nel dettaglio dalla ricerca storica dell'ex funzionario di Polizia Ennio di Francesco con il contributo prezioso della Polizia di Stato e tradotta in un interessante documentario dal regista Silvano Console, proiettato questa mattina alla Sala Petruzzi davanti a una platea formata da appassionati e alcune scolaresche di Pescara con gli interventi, tra gli altri, anche del noto storico Luciano Canfora. Luciano Canfora ha fatto, diciamo, leggendo i giornali dell'epoca e facendo una retrospettiva storica, dice che se non si è trattato solo di un incidente c'è qualcosa sotto che però corrisponde alla necessità storica. La necessità storica era l'Italia che andava alla deriva con contrasti, crisi di governo eccetera, i contrasti tra le forze politiche e il ruolo di D'Annunzi, il quale contava tantissimo, uscito da Fiume e che però era un ruolo contrastante con quello di un altro personaggio di allora, il Benito Mussolini, che aspirava al potere. Ecco, l'ho detto ai ragazzi qui, loro debbono sapere, tutti quanti noi, anche questa classe politica che a volte parla della polizia utilizzandola quasi in certe maniere, che attraverso il tutore dell'ordine, chiunque so sia, carabiniere e può essere salvo d'acquisto, guardia di finanza, in questi giorni voi che siete in Abruzzo è stato riscoperto un funzionario di polizia che anche lui è stato dichiarato giusto dallo Yad Yashem e quindi passa il concetto sicurezza, attraverso il concetto sicurezza passa il concetto libertà. Grazie a tutti.